... ... ... ... ... ... ... Accidente, Chiuso. Devo trovare un modo per entrare. , .. ... ... ... ... prendete l'arme un'intruso shh he's hiding prendete l'impecise attenti è un tipo sleale bloccatelo pensate che mi hai di passare l'impecise più forte l'impecise che cosa significa? che diavolo siete? primo ministro sono la sua guardia del corpo Jacob Fry non sapevo di una nuova guardia del corpo chi è il tuo comandante? lascia parlare il ragazzo Dizzy signora mi scuso ma c'è una minaccia alla vostra vita e la polizia ha deciso di agire in fretta minaccia? quale tipo di minaccia? questa signora scusate solo un momento da dove sbucano? da dove sbucano? sta di faro giù è una minaccia alla vostra vita non si poo intorno ad un po' l'avevo guardata Buon appetito! Ti faccio a pezzi. E' stato l'altro l'ultima battaglia. Insomma, ma che cosa sta... Non così in fretta, eccellenza. Ehi! Riporta qui il primo ministro! Sì, sì, fanno. Vieno. State tutti bene? A quanto pare siamo in grado di sì. E dobbiamo la vita, Siofrai. E' stato Gladstone, ci scommetto la testa. Questo andrà perfettamente al suo scarso coraggio. Venite fuori, Gladstone! Venite fuori! Bastante smidollato! Dubito che si trovi qui con un randello. Maledetto Bloodstone! Quel dannato! Pagherà per questo! Grazie. Cosa intendete fare con Gladstone, ragazzo mio? Vi assicuro, signora, che Gladstone non c'entra. Ma ha provato a uccidere mio marito? Beh, indagherò su Gladstone. Ma forse potete aiutarmi voi, signora. Cerco un uomo vicino al Parlamento. Vecchio, uniforme da cavalleria e grossi baffi. Sembrate un tipo rude e pronto all'azione, signor Frye. Beh, sì, lo sono, è vero. E conoscete i quartieri più poveri della nostra città? Certamente. Magnifico! Si dà il caso che io voglia visitare il Devil's Acre. Se voi mi scortaste, poi sarei felice di aiutarvi nelle indagini. Sembra una fantastica idea. Allora è deciso. Venite pure a Downing Street domani sera alle otto precise. Buona giornata, signor Frye. Ma io... Buona giornata, signor Frye. Buona giornata, signor Frye. Grazie a tutti.